Esattamente, che cosa è successo? Noi siamo stati allertati in primis dal Presidente del Consorzio Ortastrona che facendo ricognizione sulle loro opere di presa ci ha dato questa segnalazione subito dopo anche il Comune di Casale Cortecero ci ha dato questa segnalazione perché dal di sopra non si nota nessun tipo di cedimento facendo la verifica sulla fondazione del terzo pilone partire dalla rotonda e andare verso la galleria è successo che c'è stato un abbassamento di tutta la platea di fondazione con relativa inclinazione del pilone portante di conseguenza l'ingegner Costa, il nostro dirigente insieme ai tecnici specializzati hanno fatto sopra luogo e hanno ritenuto assolutamente di chiuderla per la sicurezza la prima cosa è di completare l'iter di passaggio di queste strade ad Anas dopodiché con l'assessore Gabusi ne abbiamo già parlato vediamo come operare definitivamente sia per questo ma soprattutto per la galleria perché abbiamo uno studio ben definito e la galleria è di fondamentale importanza per Omenia Per quanto riguarda invece la strada di Bognanco? C'è una situazione di pericolo pur essendo il collegamento che si può praticare di conseguenza rimane fino a domenica la chiusura perché vogliamo essere garantiti soprattutto dal punto di vista idrogeologico A questo punto gli occhi di tutti sono sulla regione Entro ottobre la regione Piemonte dovrà definire l'accordo quadro che stabilisce che diverse province piemontesi danno ad Anas la competenza di queste strade Parleremo subito con Anas per capire le modalità di intervento se può essere inserito nel pronto intervento nel famosi 100 milioni di pronto somma urgenza che vengono utilizzati subito dai nostri comuni per le somme urgenze o meno Grazie mille Grazie mille